Oggi, oltre a smartphone, notebook, tv e console di gioco, sempre più elettrodomestici e dispositivi smart home sono progettati per connessioni Wi-Fi. L'ideale per Wi-Fi 6, perché il nuovo standard wireless, noto anche come Wireless AX, garantisce le massime prestazioni, e questo per molti terminali contemporaneamente. Le nuove procedure garantiscono maggiore efficienza e velocità nella rete Wi-Fi e aumentano la portata. Per te questo significa streaming in interrotto, musica cristallina, navigazione veloce e giochi online scattanti, tutto allo stesso tempo. E il divertimento può continuare più a lungo, poiché il Wi-Fi 6 migliora notevolmente la gestione dell'energia e preserva la durata della batteria dei tuoi dispositivi mobili. Rendi la tua rete locale pronta per il futuro già oggi con un Fritzbox per Wi-Fi 6. Grazie.